Passerella punte a capo. L'esperimento di quest'estate che ha visto insieme un gruppo di imprenditori e parte del mondo del volontariato non è andato bene. Un po' per il maltempo, un po' per la scarsa accessibilità di questo degradato giardino del centro storico, le attività di ristorazione della Cube Evans non sono riuscite ad ingranare e alla fine della stagione estiva hanno chiuso in rosso. Un risultato che oltre a far dichiarare ritirata agli imprenditori coinvolti, induce l'amministrazione ad una seria riflessione sul futuro di questo spazio, noto alle cronache per il degrado e come piazza di spaccio. Per i prossimi tre anni Alp continuerà comunque a occuparsi dell'apertura e della chiusura, della sorveglianza, della pulizia dei giardini e dell'organizzazione di piccoli eventi a misura di bambino. Ad esempio per il prossimo Natale i giardini ospiteranno dei mercatini. Prima dell'estate l'idea era quella di realizzare una struttura coperta per permettere alle attività di ristorazione di lavorare anche nei mesi invernali, ma dopo il flop estivo l'idea necessita di un ripensamento. Non è commercialmente sostenibile, afferma l'assessore all'ambiente Filippo Alessi. Il nostro obiettivo resta quello di far vivere questo spazio tutto l'anno, ma dobbiamo pensare ad una nuova soluzione. A me piacerebbe realizzare un padiglione per le associazioni che si occupano del giardino, buttare giù gli attuali bagni per allargare l'area giochi e mettere in piedi una sorta di giardino d'inverno flessibile e con copertura mobile. L'area ristoro ci sarà ma non sarà preponderante. Tutto questo solo se esiste un progetto forte che lo sostiene. Se sui giardini della passerella c'è un interesse forte, io sono pronto a investire. Per questo inverno ovviamente non se ne fa di nulla, tutto resta com'è, compreso il rischio degrado.